... Incidente mercoledì 10 aprile intorno alle 11.30 in Betrucchetti a Forno Canavese. A scontrarsi una Fiat Panda con a bordo una ragazza di Pratiglione proveniente dal centro di Forno e una moto Yamaha condotta da un 23enne. L'impatto è stato alquanto violento. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo Canavese, l'elisoccorso del 118, la polizia locale di Forno Pratiglione-Prascorsano e i carabinieri di Rivara. Inutili purtroppo i tentativi di reanimare il giovane centauro Manuel Sacco, a un 23 anni di Pratiglione, illesa la conducente della Fiat Panda che si è trasportata all'ospedale di Quornier sotto shock, accertamente in corso sulla dinamica. inutili purtroppo i tentativi di Sandro Pagliore. Grazie a tutti.